Amici del portale del verde buonasera siamo addirittura d'arrivo siamo alla fine di una lunga giornata in cui Ketty Cialdi insieme ad Alberta Ballati si sono prestate molto a girare i video qui per noi dei portali del verde siamo venuti a fargli visita qui in quel di Pistoia e abbiamo ancora circa un'oretta di sole abbiamo deciso di sfruttarla in questo bellissimo vivaio aperto siamo in un campo e qui in questo momento ci sono dei Cupresso Ciparis che eccolo qui alle nostre spalle e Ketty ci presenterà le sue caratteristiche cosa ci puoi dire di questa pianta Ketty? Allora possiamo dire che questa è una pianta estremamente amata ed estremamente diffusa anche perché è ottima per la realizzazione di siepi, siepi di notevoli dimensioni perché ci troviamo di fronte a piante che raggiungono altezze significative vanno ai 6 metri ah però quindi molto oscuranti se abbiamo bisogno di dividere si 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 sono siepi impegnative sono siepi impegnative perché il Leiland è una pianta che ha un accrescimento molto significativo è lento come crescimento però raggiunge appunto queste dimensioni che non ci dimentichiamo vanno di pari passo con la sua espansione laterale per cui bisogna stare sempre molto attenti quando realizziamo queste siepi di scegliere il sesto di impianto più giusto e soprattutto di aspettarsi che sono siepi che poi vanno ad esaurirsi perché noi piantiamo questa adorabile pianticella ma lei poi nel giro di dieci anni avrà una base diventa un vero e proprio albero diventa un vero e proprio c'è spuglio enorme perché poi vengono sempre lasciate diciamo crescere fino dalla base poi alla fine questa parte qui andrà leggermente a svuotarsi ma la base della pianta raggiungerà un diametro di 15 20 centimetri anche di più nel caso di piante significative come quelle lì insomma quindi alla fine allora perciò dobbiamo considerare che è una quando si va a fare un impianto di questo tipo lo si fa proprio per per dire per dividersi magari da separarsi da una strada magari una strada ad alta percorrenza perché insonorizzano anche beh alla fine diciamo anche se non è la loro precipua caratteristica però insomma creano un vero e proprio muro verde una barriera naturale naturale sì assolutamente cos'altro possiamo dire sulla coltivazione delle cupresso ciparis possiamo dire che è una pianta che si può riprodurre sia per il nesto che per talea e al solito diciamo la pianta di innesto essendo innestata essendo il porta innesto diciamo più robusto al livello di apparato radicale più si presta alla coltivazione poi in piena terra mentre diciamo se vogliamo tenere dei leilandi in una fioriera in una cassetta in un vaso allora diciamo va benissimo anche quello di talea c'è poi anche chi non si pone questo problema e perché però sono scuole di pensiero e anche gusti diciamo da parte diciamo di chi le deve comprare e poi utilizzare cresce dal nord al sud indifferentemente assolutamente queste sono piante estremamente robuste che non hanno mai accusato niente di particolare nemmeno quando ci sono stati fenomeni atmosferici anomali per la nostra per la nostra zona quando è venuto il burian loro non se ne sono minimamente curati insomma sono piante estremamente robuste non hanno grossi non hanno grossi problemi di manutenzione se no ecco una potatura che diciamo va a complicarsi con l'accrescimento della pianta quindi diciamo che l'unico vero se possiamo chiamarlo problema è la potatura ovvero la manutenzione quindi dobbiamo stare ben attenti quando si va soprattutto a fare la scelta di una pianta cioè non è una pianta è una pianta semplice nella sua coltivazione non è proprio semplice come diciamo così manutenzione però in certi casi dobbiamo appunto mascherare una situazione che non ci sta bene oppure come diceva prima Ketty proteggersi magari dai rumori di una strada molto trafficata il cupresso Ciparis sicuramente fa al caso nostro quindi Alessandro, Ketty Cialdi, il cupresso Ciparis che vedete qui alle nostre spalle vi salutano, vi invitano sempre a mettere un bel pollice all'insù se questo video vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri ciao e alla prossima